Un saluto a tutti gli amici del canale di youtube e a tutti i campanari Oggi mi trovo di nuovo davanti la chiesa parrucchiale di San Lazzaro dedicata a San Giuseppe Lavoratore e come hai già detto qui abbiamo questo fungo Beltron veramente è marchiato trebbino però vabbè Beltron palesemente quindi oggi è 21 ottobre sono le 18 e 28 e a breve tra due minuti ascolteremo il suono feriale e visto che abbiamo prima ripreso il suono festivo questo oggi tocca al feriale visto che oggi in questi giorni mi trovo casualmente sinceramente fino a questa chiesa e approfitteremo per riprendere diciamo le sue tra virgolette campane ragazzi per quest'oggi cambiamo... eccola qua batti ora cambiamo anche l'azione dicevo grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Per il feriale suonano due campane e per il festivo quattro campane. Bene ragazzi, io dalla parrocchia, chiesa parrocchiale modernissima di San Giuseppe da lavoratore, vi saluto e alla prossima.